E' durato due ore l'interrogatorio di Maxime Cernis davanti al GIP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea, al quale era presente anche il PM Salvatore Campochiaro. Al termine dell'interrogatorio l'avvocato difensore Vincenzo Di Girolamo ha dichiarato che il suo assistito ha ripetuto le cose già dette domenica scorsa al PM, ribadendo la sua tesi di essere stato aggredito e dunque di trovarsi nella condizione di doversi difendere per non essere a sua volta ucciso. Dall'esame autoptico, eseguito ieri sul corpo delle vittime, durato sette ore, è emerso che i colpi mortali sono stati sia per Arcadio Smitska che per sua madre Cristina, quelli inferti con il coltello, in particolare sulla zona del collo e della gola. Dall'esame inoltre è emerso che la donna è stata uccisa con una sola arma, il coltello, mentre Arcadio Smitska ha riportato gravi ferite da corpo contundente sul cranio, causate dall'utilizzo della mazza da baseball. 35 le coltellate, inflitte sui due corpi. Secondo l'arrestato, Reo confesso, l'aggressione nei suoi confronti sarebbe avvenuta per derubarlo dei soldi che aveva con sé quel giorno.